Nella tua vita c'è un prima e un dopo, un incidente purtroppo molto grave dove hai rischiato proprio di non farcela. Quanto tempo fa è accaduto? È successo nel 2024, siamo sei anni fa dovrebbe, nel 2018. E tu hai dovuto anche, insomma sei stato... Sì, sono stato in ospedale, sono stato a Roma e mi hanno trasferito lì. All'inizio stavo a Formia in realtà, mi hanno operato lì la prima volta. Poi a Roma mi hanno trasferito per un'altra operazione e mi hanno messo in chirurgia d'urgenza se non sbaglio, non mi ricordo giustamente il nome. E sono stato là un mesetto da solo perché i miei genitori non mi potevano venire a trovare che a causa delle operazioni e tutto magari ero molto debole, con le difese immunitarie magari rischiavano di passarmi qualcosa da fuori. Quindi li vedevo tipo da una finestrella praticamente. Ma era un incidente in motorino, in macchina? In una moto, con una moto. L'ho fatto a Fontania, che è questa via a Gaeta vicino al mare, sono tutte curve. E un signore ci ha fatto inversione in curva, non mi ha visto e mi ha preso in pieno. Hai perso un rene tu? Sì, mi hanno asportato un rene, sì.